Allora, benvenuti facciamo questa registrazione di repilogo dell'ultima lezione che abbiamo fatto mercoledì scorso Allora, qui abbiamo fatto alcune cose miste nel senso che abbiamo presentato questa aiutante questa è una specie di aiutante è un cubo qua, ma potrebbe essere un robot insomma un chiosco di informazioni adesso qui vedete che è un po' bianchino comunque questo oggetto, quando ho cliccato se io lo clicco, mi fa vedere un po' di opzioni quindi mi chiede se voglio avere informazioni su chi siamo, cosa vedere nella sim oppure delle cose interessanti, insomma delle varie cose nel momento in cui io clicco una selezione tipo 1 mi viene presentata una note card e questa note card, qui devo dire mantieni e qui compare la note card con tutte le informazioni sulla mia sim una cosa che ho visto, che ho fatto a lezione è stata quella di insegnare alle persone innanzitutto cosa sono queste note card e cosa sono anche i landmark cominciamo con le note card allora le note card è una cosa proprio di sopravvivenza nel mondo di virtuali, sono dei fogli di carta, di papiri dei piccoli testi, di volantini infatti in alcune traduzioni vengono chiamati biglietti i biglietti sono degli oggetti tipo i cubi eccetera che trovate nel vostro inventario quindi se io apro il mio inventario posso andarmi a vedere nel mio inventario quelli che sono le note card note card o biglietti e andando a vedere nel mio inventario vedete che ci possono essere un sacco di informazioni per esempio questa qui è una documentazione di un oggetto di un'isola fatta all'isola della Gallinari o dal Benga ci possono essere delle istruzioni per usare delle cose ad esempio questo qui soluzioni per fare un certo gioco e così via insomma le note card possono essere costruite in molti modi allora vediamo adesso come costruire una note card quindi li mettiamo tutto qui ci sono le note card supponiamo di fare una note card che contenga le informazioni per accendere per collegarsi a Edmondo allora cosa faccio? faccio note card e poi qui beh ci sono vari modi per costruire una note card con Firestorm uno dei modi è fare più qua e poi fare nuovo biglietto vedete che c'è traduzione un po' strana se no si può in teoria andare anche dovrebbe esserci anche da qualche parte non lo trovo qua comunque dipende dal vostro dal vostro dal vostro viewer dove si trova in pratica di solito si trova nell'inventario e nei viewer tipo imprudent si trova qua in alto in cui c'è un'opzione crea nuova nuova note card noi lo facciamo da qua facciamo più nuovo biglietto e vedete che ci compare che cosa? un nuovo appunto l'ennesima traduzione di chi ha fatto le traduzioni dall'inglese all'italiano quindi questo appunto lo chiamiamo come entrare in Edmondo ok? e poi questo è il titolo e qui possiamo metterci una descrizione e qui c'è scritto la descrizione di base e la data e ora in cui state create questi qui appunti su come configurare il viewer e qui potete scrivere varie cose ad esempio potete scrivere cercate su internet gli mettete http e poi gli mandate non so tipo un indirizzo url gli mettete www adesso gli scrivo una cosa www.edmondo.it che non è questa ma è giusto per farvi vedere poi qui possiamo anche dirgli caricatevi il viewer imprudence imprudence che trovate qui e gli date un altro indirizzo e così via quindi questa è diciamo una notecard la salvate la notecard viene salvata e compare qua come entrare nel mondo in realtà le notecard possono contenere all'interno tante cosette tra cui possono avere anche delle immagini infatti se nella notecard qui vogliamo mettere un'immagine ad esempio una foto del viewer e gli volete mettere la foto del viewer supponiamo di avere una immagine una texture adesso qui non ce l'ho comunque c'è una foto che avete del viewer che avete scaricato e che avete fatto l'upload l'ho insegnato in una lezione precedente prendete questa foto vedete questa e questa foto potete metterla dentro la vostra notecard quindi a questo punto consegnando la notecard si potranno consegnare anche delle foto e si potranno consegnare anche dei landmark che sono cose anche molto interessanti anche degli oggetti ma teniamoci su immagini e landmark quindi landmark andiamo qua landmark questi landmark sono tutte delle cose che voi potete non appena visitate un posto potete salvarvi il landmark landmark lo salvate da tipicamente in alto c'è un'opzione qui lo chiama punto di riferimento quindi facendo così crea punto di riferimento vedete che è comparso un oggetto di questo tipo e posso cambiargli il nome questo qui ad esempio dove siamo noi adesso è la sandbox della welcome area ok lo salviamo e vedete che nel landmark ci ha messo questo oggetto questo qui possiamo metterlo anche nella nostra nella nostra ok note car lo salviamo come dice ecco e qui possiamo dire ad esempio questa qui foto del campus due punti e poi andiamo in fondo e qui mettiamo landmark ok e salviamo questa informazione ora qual è l'utilità diciamo di questo receptionist è che se noi vogliamo che distribuisca anche questa note card questo biglietto che vi ho messo basta che andiamo nel contenuto dove vedete che c'erano delle note card precedente e ci spostiamo la note card che abbiamo appena creato quindi elementi recenti come entrare nel mondo la prendiamo la trasciniamo e vedete che qui c'è anche come entrare nel mondo ok ora questo vuol dire che noi cliccando a questo punto su questo oggetto vedete che c'è un'opzione in più 1,2,3,4 e come entrare nel mondo è 2 quindi cliccando su 2 ci viene presentata la nostra note card qui c'è una piccola cosa mantieni o elimina allora elimina vuol dire che non viene salvata anche se la potete comunque vedere infatti dice non l'hai accettata però comunque è come dire prendo un foglietto un volantino e poi non lo tengo non ho voglia di rivederlo un'altra volta o se no qui adesso lo eliminiamo o se no clicchiamo ci prendiamo questa opzione e poi diciamo mantieni allora mantieni e a questo punto in realtà ce l'ha mantenuta ce la troviamo nel nostro inventory quindi contro lì e vedete che è raddoppiata quindi in questi casi molto spesso si deve poi fare pulizia e si cancellano le cose di troppo ad esempio questa è doppia e magari se ne cancella quindi si va sul tasto destro e poi si fa cancella ok tutte le cose che vengono cancellate dall'inventory vanno a finire nel cestino ogni tanto conviene fare la pulizia del cestino un po' come in ordine di tutte le altre cose e quindi abbiamo diciamo la possibilità di esplorare tutte le note card che ci arrivano andiamo qua allora riprendiamo la nostra note card quindi chi riceve in realtà questa note card avrà la possibilità di vedersi le immagini quindi può leggersi il testo può fare copia e incolla e può soprattutto cliccare su un'immagine e vedere quello che gli stiamo facendo vedere quindi può avere una percezione di di varie cose cose cosette che sono utili oppure se gli diciamo vai in questo posto per vedere tal cosa può cliccare su il landmark e quindi può teleportarsi facilmente vedete che mi sto teleportando nel posto quindi detto in poche parole quindi abbiamo ricapitolando visto uno script abbastanza utile che è questo che ho chiamato receptionist 2 che consente di leggere tutte le note card che ci sono qua dentro e di consentire a chi arriva lì vicino magari ecco dicevo prima conviene che qui abbia un aspetto un po' più invitante tipo una hostess o uno steward con dei dati tipo chi ha di informazioni qua io nella mia lezione vi spiego come fare gli script non sono un builder e quindi non vi faccio vedere queste altre cose però insomma ci si possono trovare in giro degli avatar in cui inserire questi script e questo contenuto quindi ricapitolando gli script come al solito ci aiutano a rendere un qualche cosa di interattivo cioè un oggetto che cliccando dà informazione cioè spiega come è fatta la sim come funziona e consente praticamente alle persone di avere informazioni quindi potete anche documentare vari stati di un esperimento di una sim piuttosto che informazioni anche diciamo didattiche ad esempio si possono distribuire delle cose relative come dicevo prima esperimenti o addirittura interi libri si possono inserire degli appunti dei libri delle riviste del qualunque cosa insomma e questo diciamo è la base che abbiamo visto la settimana scorsa e con questo io vi lascerei e ci sentiamo la prossima settimana